Salve ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, oggi mi è arrivato un pacco e vi voglio far vedere quello che ovviamente è arrivato. Così mi dite pure la vostra. Allora, questo è il pacco ragazzi. Ovviamente io l'ho già aperto, però voglio un attimino metterlo così. Così mi dite se vi piace anche a voi. Vediamo. Aspettate che la metto bene. Ok. Ok ragazzi, guardate la mia borsa nuova. È a forma di bauletto. Ovviamente adesso ci devo andare a mettere dentro perché ragazzi, giustamente, essendo stata piegata, guardate com'è bello è il bauletto. Vediamo se riuscite a vederlo meglio. Devo sistemarlo bene. Guardate ragazzi, che dite? Vi piace? È a forma di bauletto. Mi è piaciuto tantissimo. Mamma quanto è bello. Ovviamente, ora ci devo mettere la carta dentro. Ovviamente poi ci ho preso anche il portafoglio. Allora, il portafoglio. Allora, qui... Aspetta, vediamo prima la cosa. Allora, qui ovviamente c'è la tracolla, quindi si può mettere anche con la tracolla. O se no, a me piacciono tantissimo le borse, quelle che si portano così. Sono speciali. Che bello, mamma mia, non vedo l'ora di mettermela. Oppure, poi c'è la tracolla. Mi piace proprio il colore. Mi piace bello, bellissimo. Guardate. Ora ci devo mettere la carta all'interno. Ci metto tante busse, così la faccio stare una giornata così. Almeno riprende di nuovo la forma, perché è stata chiusa nel pacco, ovviamente. Però è bellissima, raga. A me piace tantissimo. Mentre invece il portafoglio c'ha la doppia cerniera. Vedete? Qui e qui. E dai, sono belli pure questi. Dai, bellissimo. Allora, mi piace tantissimo il portafoglio. Ovviamente è abbinato alla borsa. Ma a me piace perché se nel caso io non voglio portarmi tutta la borsa dietro, no? Che devo fare un acquisto veloce, io posso portarlo questo così, no? Mi è piaciuto tantissimo, raga. Come sono contenta. Ovviamente poi mi hanno fatto un omaggio, due omaggi. Per ringraziare, per ringraziarmi. E hanno dato un pacco di caramelline. E poi un braccialetto. Guardate com'è carino, com'è bello il braccialetto. Carino, eh? Proprio bello il bracciale, eh? Bello veramente. A me lo voglio già mettere. Questo me l'hanno regalato. Che bello, sono due omaggi. Aspetta, non ce la faccio. No, mi devo fare aiutare. Vabbè, comunque è così, vedete? Carinissimo. Che bello. Sono proprio contenta, raga. Sono rimasta proprio contenta. Bello. Proprio davvero, davvero bello. Che cosa ne pensate, raga? Fatemi sapere cosa ne pensate. Io esco pazza per queste borse così. No, ma come c'è scopazza? Ah, c'è pure la cerniera all'interno. Che bella. Allora, mo' faccio una cosa. Metto la tracolla qui. E inizio a metterci la... Inizio a metterci bene bene la... La... Le buste all'interno. Ok. Peccato però. Perché li devono piegare così? Ma io mo' la metto. La metto tutte le cose qua che sono arrivate. Le metto tutte così, eh. Devo trovare altre buste però. Mo' vado a prendere altre buste. Vediamo un po'. Vediamo se queste bastano. Andando, ragazzi, ci vogliono le buste. Perché almeno così riprende forma. Vediamo, vediamo. Vediamo un po'. Peccato. Si rovinano così le borse. Intanto io penso che un altro metodo forse non ce l'hanno. Bu, non lo so. Però che strano. No, ce ne vogliono ancora, ragazzi. Speriamo che se ne vanno ste pieghettine. Ah, poi c'è anche la cerniera qui, vedete? Anche qua fuori c'è la cerniera. Belle, ma... Non è cinese, eh, ragazzi. Eh, se ve lo state chiedendo non è cinese. Ma ci fate pure questo. Eh, no, mi servono ancora buste. Ok, ragazzi. Ragazzi, perfetto. Guardate com'è venuta bella. Speriamo che se ne va sta riga qua. Intanto li tengono chiuse così. Io non riesco a capire perché. Ma come? Ma... Speriamo di aver fatto un ottimo acquisto, se no pazienza. Ovviamente adesso poi la vado a cambiare con l'altra mia borsa. La voglio... Questa non si caccia. Ok, ok. Ci mettiamo pure questo così lo facciamo rinventare di più. Che poi la vado a cacciare. Ma lo faccio stare tutto stasera così. Ho fatto bene comunque. Tutta stasera la faccio... La lascio così. In modo che almeno si sta bella... Vedete? Benissimo. A me è piaciuta tantissimo, raga. Anche il portafoglio, bellissimo. Guardate che bella. Vabbè. Fatemi sapere se anche a voi è piaciuto. Niente ragazzi, questo è il mio video. Io vi ringrazio tantissimo. Però ragazzi, prima di chiudere vi devo dire una cosa. Allora. Come vi dicevo nel vecchio video. Sto iniziando a fare le live su Instagram. Se qualcuno di voi vuole seguirmi anche su Instagram. Io la sera, durante il pomeriggio. Poi dipende dai miei impegni. Facciamo le live. Ovviamente ancora non è che mi conoscono tante persone. Però insomma, sto iniziando. Sto iniziando in modo che almeno così. Man mano poi mi conoscono. E se volete, io giù in info box, vi lascio il mio, il, diciamo il mio nickname per trovarmi su Instagram. Ma è semplice ragazzi. È Anna, trattino basso, desimone, settantanove. Va bene? Comunque lo trovate giù in descrizione. Va bene? Ragazzi, se vi fa piacere, io vi aspetto su Instagram. E ovviamente se volete seguitemi anche su TikTok. Perché poi farò anche lì le live. E niente ragazzi. Ci vediamo domani qui su YouTube con un nuovo video. Vi abbraccio, vi voglio bene. Ci vediamo domani. Ciao.